Dopo i lunghi mesi di restrizione a causa della pandemia, il Comune di Feltre guarda alla ripartenza e all'estate ormai alle porte. Ricco il calendario degli eventi, fra proposte culturali, musicali e non solo. Ripartiremo sicuramente in collaborazione con le associazioni dei commercianti per rivitalizzare Feltre venerdì sera con i famosi venerdì nel cuore. Poi passeremo sicuramente a ritrovare le maggiori manifestazioni sportive, quindi Gran Fondo, Giro delle Mura e anche le manifestazioni più storiche che hanno fatto la storia di Feltre come Mostra d'Artigianato e Paglio. Ampio spazio in questo 2021 alla musica. Nell'ampio panorama turistico e culturale della città quest'estate con due nuove mostre, con due nuovi siti aperti, con tutta una serie di iniziative importanti e con un unico biglietto, ci sarà anche il ritorno dopo anni della grande musica. Si tratta di quattro importanti concerti, tutti di carattere nazionale, con un taglio di pubblico, diciamo, di carattere giovanile, ma si tratta appunto di appuntamenti veramente significativi che verranno svelati poi nei prossimi giorni e per i quali sarà possibile già comprare i biglietti. Fra i concerti in programma, il 24 luglio sarà la volta del rapper e cantautore italiano Murubutu il 27 luglio a Raffael Gualazzi. Ritorna inoltre l'esperienza dell'urbanistica tattica. Il primo weekend di luglio con l'urbanistica tattica e quindi con una trasformazione temporanea dello spazio collettivo con l'involgimento dei cittadini, dei commercianti e di tanti altri. E poi naturalmente tutte le manifestazioni e il colloquio che è in corso con i commercianti per adeguare al meglio l'offerta appunto del commercio con i tempi e i modi dovuti in concerto appunto con tutte le altre manifestazioni. Quindi i weekend saranno sicuramente di una città aperta e il commercio è al lavoro per questo.